C'è la cena di San Giuseppe tra fede e folclore. È una delle celebrazioni più belle e suggestive che si svolgono in città. Numerose famiglie si sono dedicate all'allestimento di straordinari altari decorati con fiori, ricami, ramoscelli di allori e pani votivi. Un ringraziamento al santo per grazia ricevuta con una cena per i più poveri e ogni cena allestita ha una storia personale. Riabilitazione, liste aspo bloccate, la denuncia è del medico pediatra Antonio Rinciani, scelte politiche scelerate hanno portato ad una distribuzione dei posti convenzionati completamente errata. Se non c'è la stabilità dell'intervento, i costi sociali aumentano e le malattie degenerano. L'invito ad aderire ad un comitato è abbattersi per il diritto alla salute. Il Consiglio Comunale di Gela sfiducia il sindaco e l'appello lanciato dall'ex assessore ai lavori pubblici Maurizio Melfa, l'imprenditore offre la propria disponibilità al fine di ricoprire gratuitamente un incarico di consulente esterno per cooperare ad un vero piano di rilancio strategico integrato e programmatico della città. Il Gela ci mette il cuore ma finisce pari, Biancazzurri avanti di due gol ma in inferiorità numerica per l'espulsione di Moi vengono raggiunti dalla San Cataldese. Si assottigliano sempre più le speranze di accedere alla zona playoff. Intanto c'è da risolvere la grave crisi societaria. L'ex presidente Tuccio assicura un intervento per un eventuale ed auspicabile cambio di proprietà attraverso la gestione delle quote del CREBA all'altro gruppo gelese che questa estate era pronto a rilevare la società. E' una delle celebrazioni più belle e suggestive che si svolgono a Gela. Si tratta delle cene di San Giuseppe, santo patrono per eccellenza della famiglia. Meravigliosi altari e banchetti votivi in suo onore. Diversi giorni prima della festa numerose famiglie si dedicano all'allestimento di straordinari altari sui quali sono sistemate statuine ed immagini del patriarca e della sacra famiglia. Gli altari, come vediamo nelle immagini, sono decorati con fiori, ricami, ramoscelli di allori, mirto, aranci e pani votivi, questi ultimi lavorati con tale maestria da sembrare scolpiti. Ed ancora verdure, frutti, bevande e dolci. Un ringraziamento a San Giuseppe per grazia ricevuta con una cena per i più poveri. Tutte le cene hanno una storia a sé e nascono da episodi familiari risolti miracolosamente per intercessione della sessa sacra famiglia. La motivazione sono tante per la mia salute. Un tumore. Dovevo farla stagena, ma da anni è venuta in fine. E ringrazio San Giuseppe di avermi dato la grazia di tante cose. Veramente. È un suo desiderio, finalmente ringraziando amici e parenti che hanno collaborato si è esaudito e io non ho parole per ringraziare a tutti i parenti e amici pure. Ho sentito sempre felice e sempre beato. Non ho niente da rimproverarci e da rimproverarmi, perciò mi sento l'uomo più felice di questo mondo. Io ho avuto dalla vita quello che desideravo e in grazia di Dio ringrazio sempre a Dio. Abbiamo una bella famiglia. Io ho avuto quello che desideravo, parlo da scapolo, l'ho detto anche agli amici e lo dico. Lo desideravo da scapolo e finalmente ho risolto tutti i miei sogni e sono arrivato al top. Grazie a Dio sempre e non mi posso lamentare. Grazie, grazie di cuore. Anche gente che io non conosco. Hanno tutti collaborato. E dico di credere in San Giuseppe perché esiste. Veramente. No, no, ma la mano divina c'è. La mano divina esiste. In tutto, anche quando usciravo le lenzuole. Di solito ci vuole due persone per tenere le lenzuole. Si piegavano da soli le lenzuole. Voleva questa cena che si doveva realizzare. Io volevo, perché non me la sento tanto come salute, di... Volevo fare una cosa molto più ristretta. Invece no, dovevo fare una cosa in grande. Ma è San Giuseppe che lo vuole. Come vuole la tradizione e la Sacra Famiglia si si trattavola ed incomincia a mangiare le pietanze preparate. La pasta fatta in casa con i legumi, il pesce fritto, l'uovo sodo, la frutta e il dolce. Infine, la parola di rito. La promessa è compiuta. Oggi la festa di San Giuseppe e anche la Chiesa San Domenico Savio ha voluto partecipare con una bella cena allestita all'interno dei locali parrocchiali. Le chiedo subito com'è nata questa iniziativa, probabilmente spinto proprio dai fedeli a realizzarla. Certo, senza altro. Certamente spinto dai fedeli, ma soprattutto da una tradizione. La nostra comunità ha una grande attenzione verso i più poveri. Da noi c'è il centro di ascolto con la Caritas, che ordinariamente è tre giorni alla settimana aperta ed è molto frequentato. E allora ci siamo chiesti, visto che qui in paese c'è uno stile legato a una festa ben precisa, San Giuseppe che è il padrono della divina provvidenza, ecco perché non invocare il suo aiuto e la sua protezione, sfronando tutti i parrocchiani alla generosità a contribuire per poter aiutare meglio i fratelli più bisognosi. Da qui l'impegno dell'intera comunità parrocchiale a provvedere tutto quello che voi vedete qui dentro. Quindi è tutto frutto dell'impegno, delle queste e delle raccolte che hanno fatto i fedeli, impegnandosi in maniera libera, gratuita, proprio con questo spirito di condivisione e di generosità verso gli altri. I prodotti chiaro raccolti poi saranno devoluti in beneficenza alla gente che soffre, dato l'armante a Gela purtroppo che c'è un tasso di povertà esponenziale. Sì, infatti proprio per questo non ci sarà la cosiddetta famiglia che mangia eccetera eccetera, proprio perché per noi sono i poveri tutti uguali, allora si è deciso, ecco tutto quello che c'è sarà distribuito in maniera uguale per tutti, a secondo delle famiglie come loro sono nelle loro necessità, il numero dei componenti e così via, in maniera tale che tutti possano usufruire di questo dono. Una cena di San Giuseppe è chiaro che può semplicemente lenire le sofferenze dei più poveri, ma cosa bisogna fare realmente per risolvere questa drammatica situazione che si verifica a Gela? Può semplicemente aiutare, almeno in questo periodo, a sopperire ad alcune necessità, per il resto ecco chi deve intervenire? Se fosse stimolato anche da queste iniziative, ecco la riflessione di chi per esempio a livello politico ha delle responsabilità, dice se c'è tanta sete di necessità di viveri e di alimenti di prima necessità in una città come la nostra, ecco noi che abbiamo la responsabilità della cosa pubblica, cosa possiamo fare per andare incontro a loro? E' una domanda che attende risposte dalla politica. Speriamo. Ci sono genitori che attendono da anni visite di locopedia e psicomotricità per i propri figli nelle strutture convenzionate con il territorio dove le liste risultano bloccate. Allo scorso 31 dicembre risultano in lista d'attesa all'Aias di Gela 319 pazienti ambulatoriali, 190 domiciliari e 9 soggetti per il semi internato e i tempi vanno dai 2 a 3 anni. In provincia di Caltanissetta ci sono ben quattro strutture che si occupano di erogare lo stesso servizio con procedure più snelle e attese minime, un dislivello l'ennesimo tra il nord e il sud della provincia di Sena per scelte che nulla avrebbero a che fare con la responsabilità delle ASP territoriali ma che sono da far ricadere nella politica. Lo dice il medico pediatra Antonio Linciani da sempre in prima linea nelle battaglie che riguardano la salute della città che quotidianamente si imbatte nell'impossibilità di far accedere i propri pazienti a terapie convenzionate con attese che durano anni e la conseguente degenerazione delle patologie. Non potendo accedere ai servizi convenzionati solo poche famiglie hanno accesso alle terapie mediche che diventano così un lusso che in molti non possono assolutamente permettersi. Da qui la degenerazione della patologia con ricadute sociali importanti in termini di costi e criticità varie. Linciani, presidente del Comitato delle Famiglie con portatori di handicap, ha scelto di fare sua questa battaglia dove gli unici a perdere sono i pazienti che attendono terapie da anni a causa di scelte politiche scelerate che hanno portato ad una distribuzione dei posti convenzionati completamente errati che non tiene conto neanche della distribuzione della popolazione che tra i comuni di Gera, Licata e Niscemi supera i 150.000 utenti. Se non c'è la stabilità dell'intervento, continua Linciani, i costi sociali aumentano e le malattie degenerano. Diventa dunque di fondamentale importanza intervenire piuttosto che creare disabilità permanenti perché una cosa è iniziare il trattamento a sei mesi ed un'altra è intervenire ad un anno e mezzo a causa di una problematica fatta di immobilismo e disparità di trattamento nella gestione del denaro pubblico. Per Linciani, che da anni si occupa di malattie da industrializzazione, la vera vergogna è che si tratta di bambini che attendono un trattamento dovuto. Da studi accertati, prosegue il medico, i polluttanti atmosferici incidono sulla sostanza bianca del cervello gravando notevolmente sull'incremento della patologia autistica alla quale assistiamo nel nostro territorio. Linciani lancia un appello agli assessori regionali alla salute Ruggero Razza e alla famiglia Mariella Eppolito invitando tutti i genitori dei bambini diversamente abili ad aderire al comitato e a battersi per il diritto alla salute. Intanto il presidente dell'Aias di Gela, Anna Maria Longo, inviterà personalmente gli assessori della giunta regionale a fare una visita istituzionale presso la struttura di Borgomanfria, oggi in piena manutenzione per l'ampliamento dei locali. Ho accettato la nomina a dicembre lasciando il mio lavoro per dare un contributo alla città visto i risultati poco edificanti ottenuti dall'amministrazione comunale in 30 mesi di mandato e chiesi al Consiglio Comunale la fiducia ed una proroga di 6 mesi per cercare di dare un passo nuovo alla giunta. Ho rassegnato le dimissioni perché in già soli 3 mesi di lavoro intenso ho compreso la diversa totalità di formamenti se dividute con il sindaco ed il vice sindaco anche perché già in questo breve periodo si sono verificati una serie di problemi che mi sono convinto non possono essere risolti da questa amministrazione neanche in altri 10 anni di attività. Lo dice in una missiva l'ex assessore ai lavori pubblici Maurizio Melfa dimessosi i giorni addietro. Tantissimi cittadini in questi giorni, dice Melfa, mi hanno manifestato personalmente tramite i social il loro affetto. Non trovo un cittadino, un imprenditore, un commerciante, un agricoltore, un soggetto che opera nel mondo dello sport, del sociale e della cultura che apprezzi questo sindaco ed il suo vice. Rei di avere creato un sistema inidoneo a risolvere i problemi della città capaci soltanto di creare rapporti conflittuali ed incapaci di dare risposte. Poi Melfa si rivolge ai consiglieri, dovete sfiduciare tempestivamente questo sindaco e la città che lo chiede con forza. All'ex assessore è stato chiesto di organizzare una manifestazione in piazza, un corteo in città per fare presente ai consiglieri e alla giunta questo forte stato di disagio sociale ed economico. Non è normale che in una città una giunta comunale sia priva di qualunque forma di sostegno politico e programmatico da parte del consiglio comunale. Sono sempre disponibile a qualunque azione propositiva per il bene della città dice ancora Melfa, non con le parole ma con i fatti e a chi mi accusa di avere sputato sul piatto in cui ho mangiato rispondo che questo piatto mi costa quasi 200.000 euro all'anno perché ho dovuto assumere tre unità in azienda, tra cui manager, per sostituirmi al fine di dedicarmi alla città con tutto me stesso ma di sicuro non sono disponibile a sobbarcarmi questo sacrificio economico e personale per rendermi complice di una città che affonda in cui oramai non funzionano più neanche i servizi essenziali. Non sono disponibile a scendere alla livello di chi mi offende, sono stato definito un bambino, uno che gioca ai videogames, è stata lese la mia immagine, continua Melfa, e il tutto sarebbe passibile di querela, ma non lo faccio perché la verità è palese ed evidente, è la mia storia di uomo e di imprenditore che parla chiaro. Melfa definisce l'attuale giunta come la peggiore degli ultimi anni. Qualcuno ha detto che mi sono dimesso strategicamente per candidarmi a sindaco e che sono già in campagna elettorale. Per la mia personale situazione lavorativa, una tale ipotesi sarebbe solo un grossissimo sacrificio che farei solo se richiestomi con forza e con condivisione da persone oneste e competenti e solo ed esclusivamente per un unico obiettivo, il bene della città. Darei fin da ora la mia disponibilità, aggiunge l'ex assessore, e mi sarebbe molto più congeniale ricoprire un incarico di consulente esterno, ovviamente gratuito, per cooperare ad un vero piano di rilancio strategico integrato e programmatico della città. Gela oggi, non domani, non tra un anno, ha bisogno di un risveglio innanzitutto culturale, economico e sociale. Non bisogna consentire ad altri di decidere sul futuro dei nostri figli ed ogni mia azione, chiude Melfa, ha come bussola il principio di non accettare che la mia città sprofondi nel baratro ancora di più. Un pareggio tutto sommato giusto, quello andato in scena ieri nel derby tra Gela e San Cataldese, giocato allo stadio di Noliotta Delicata, a causa dell'indisponibilità dello stadio Presti, chiuso al pubblico per dei lavori di messa in sicurezza della tribuna. Sul sintetico della struttura sportiva grigentina, così le due formazioni in se ne hanno dato vita ad una gara pimpante e ben giocata da entrambe le squadre, con il Gela che si morde comunque le mani per non avere saputo sfruttare il doppio vantaggio firmato da Alma e Gallonna nel primo tempo e portare così a casa il bottino pieno. In 10 contro 11 per tutto il secondo tempo, a causa dell'espulsione di Moi, la compagine biancazzurra di Nicola Terrenova ha subito il ritorno in partita dei verde amaranto di Marcianò, bravi a crederci sino alla fine. Un pareggio per due a due che complica ulteriormente la corsa verso la zona play-off del Gela, che a dire la verità, a causa delle note vicende societarie, ha ben altro a cui pensare. La cronaca del match ha visto subito partire forte la formazione ospite, ma il Gela creare le occasioni migliori per passare in vantaggio. Dopo due giri di lancette, Moi rimedia già un giallo pesante per un fallo su Ottara dal limite dell'aria di ricore. La punizione di Calabrese però si spegne sulla barriera. Al settimo clamorosa pallagolla per il Gela, cross di Gallon, Bonanno stacca di testa, ma Franza le spinge e da due passi Alma spara alto. Al nono, il palo interno colpito da Gallon fa gridare al gol. Rete del vantaggio, Gelese che arriva all'undicesimo, sull'angolo di Bonanno arriva il tapin sul primo palo di Alma che lascia di stucco il portiere, San Cataldese. 1-0 meritato per il Gela. San Cataldese che prova subito la reazione al diciannovesimo con Cosimo Bruno che impegna Biondi. Al ventiduesimo c'è anche la traversa della San Cataldese con Sciacca che lascia partire un gran tiro che scheggia la parte superiore del montante. Al venticinquesimo ancora ospiti vicini al pari con Ottara, ma Biondi le spinge con i piedi. Al trentacinquesimo il Gela raddoppia. Sul cross, questa volta di Alma, arriva la zampata di Gallon che firma il 2-0. La ripresa si apre con la doccia fredda per i padroni di casa. Moi intercetta con il braccio un tiro e l'arbitro decreta il calcio di rigore a favore degli ospiti e l'espulsione del difensore gelese già ammonito. Dal dischetto, il capitano De Verde Amalanto non sbaglia e accorcia le distanze. Il Gela soffre l'inferiorità numerica e la San Cataldese prova ad approfittarne anche se proprio la squadra di casa ad avere sui piedi l'occasione per fare il 3-1. Polito, infatti, tutto solo in area di rigore, raccoglie un pallone invitante a due passi dalla porta ma la sua conclusione di potenza termina alta sulla traversa. Gol mancato, gol subito in pratica perché poco dopo la San Cataldese acciuffa il definitivo pareggio con Tosto che appostato sul secondo palo fulmina con un offendente a peno d'erba il portiere Biondi. 2-2 e gara che a quel punto scivola via sino al triplece fischio. Intanto ieri l'ex presidente del Gela Angelo Tuccio ha incontrato la squadra al Presti per far sentire una voce amica ad un gruppo di ragazzi abbandonati e con gli occhi lucidi di rabbia e disperazione. Ha promesso loro che contatterà i fratelli Mendola per capire come può dare una mano per un eventuale e la auspicabile cambio di proprietà attraverso la cessione delle quote del Gela all'altro gruppo gelese che quest'estate era pronto a rilevare il club. Tuccio ha detto che farà appello alle parti affinché ognuno si muova solo per avvantaggiare un percorso che porti subito alla soluzione. Nessuno può permettersi dice Tuccio di far morire il Gela in questo modo. Angelo Bruno peccato una partita che si era messa bene con il 2-0 del Gela poi quel calcio di rigore l'espulsione di Moia poi la rimonta della San Caldardese che dimostra di sempre di essere una bestia nera per la squadra bianca-azzurra. Più che altro la nostra bestia nera si chiama sfortuna perché non è possibile non sappiamo più come fare oltre il fattore fuori dal campo ci si mette anche il fattore dentro dal campo veramente diventa una guerra ogni domenica giocare in 10 o giocare 11 contro 15 16 diventa veramente impossibile però quello che è importante è che noi ci abbiamo messo il cuore ed è quello che più mi piace di noi ragazzi che ci mettiamo sempre il cuore su tutto. Infatti al di là delle avversità ci avete messo il cuore sembrava una partita comunque si era messa sui binari giusti l'occasione anche di Polito varie occasioni che cosa è mancato alla fine a questo Gela? Cosa è mancato? Non ti so dire cosa è mancato magari in 10 potevamo difenderci meglio dovevamo difenderci meglio però in questi in questi infrangenti in queste situazioni questa settimana è stato davvero difficile Adesso con quale spirito con quale atteggiamento magari si vivrà la giornata in attesa comunque di partire per nocera? Esatto noi faremo di tutto veramente con tutto il cuore faremo di tutto per partire domenica attendiamo solo che qualcuno ci dè notizia noi purtroppo giorno per giorno viviamo di speranza Mister la San Cataldese dimostra di essere una vera bestia nera per il Gela nonostante il doppio vantaggio alla fine c'è stata la rimonta della squadra verde a Maranto che partita è stata? Al di là degli episodi che comunque hanno condannato il Gela ancora una volta a giocare in inferiorità domenica le solite partite che affrontiamo con la San Cataldese sempre partite equilibrate è chiaro che il secondo tempo si è aperto con un rigore a loro favore con un'espulsione quindi diciamo che il risultato di pareggio alla fine ci può pure restare che cosa è mancato alla fine a questo Gela forse la serenità da un punto di vista puntuale mentale oppure comunque la capacità di ogni singolo giocatore a tenere duro nonostante l'inferiorità numerica intanto l'approccio alla gara non è stato del tutto soddisfacente abbiamo concesso un po' troppi metri all'avversario abbiamo rischiato di prendere gol poi abbiamo preso le misure devo essere sincero il primo tempo probabilmente doveva finire anche con qualche gol di vantaggio in più poi il secondo tempo le solite pecche qualche leggerezza di troppo abbiamo preso questa imbucata in mezzo all'aria dove ha consentito agli avversari di prendere il rigore e l'espulsione di Moi stiamo qui a parlare dopo ogni partita di episodi poco favorevoli a noi è chiaro che questa è un'annata un po' particolare con tutto quello che ci gira attorno appunto di quello che ci gira attorno la settimana prossima sarà una settimana altra settimana delicata per il Gela con quale spirito l'affronterete cosa sperate che succeda guarda non so che dirti non so che rispondere noi io e la squadra martedì ci ritroveremo al campo per cominciare una settimana di lavoro prenocere quindi queste cose societarie chiedere al direttore grazie a tutti Grazie a tutti